SAPPA IS GRIEEE! Benvenuti in Cracovia! Cosa? Non lo so, però... Cracosia! È GBA Ride! Gioco per GameCube! Ho detto Cracovia! Iniziamo con Air Ride! Vada per Air Ride! Stared Game! Cazzi amaci! Fantasie! Ma perché? Non lo so neanche io! Ho chiamato una cosa a caso! Allora, io scelgo questa! Quella è un coso di tank, mi sembra! Ha la forma di un tank! Il gelatiere? Sì! È un gelato! Sì, è una cosa dei gelati! Tipo, non puoi caricare il turbo, però è abbastanza veloce! Guarda che sei già in prima posizione! Oh, salve, grazie! Però la mia tipo vola! Vola abbastanza! Quindi... Come faccio il tuo ritorio? Eh? Tipo... Con A... O gli altri tasti comunque ti abbassi, no? Vedi che ti abbassi? Sì! Quando ti abbassi, usi praticamente tutto! Fai assorbi, usi poteri... Ok! Ti ho meno tutto, fai! Anche carichi il turbo, se ce l'hai, ma il tuo non ce l'ha, con niente! Adesso sono io a prima posizionata! È abbastanza carino e colorato questo gioco, però è anche ripetitivo, quindi... L'importante, però, è che ci sono altre modalità, quindi... Ah, Cristo! Ah! Fusi il potere del vicio, sono un saluto, io volo! Ah, 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 ah! Ah, ah! Guarda quanto sta in alto, che... Ok, sappi che ogni volta che... MA CHE CACCIA! Più vado in su e più... mi si carica un turbo, un turbo aggiuntivo. Ma che cazzo! Inoltre, prova a superarmi adesso! Sì! No, cazzo! No, 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 no! No, 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 no! Ci vediamo? No! Stronzo! Stardo! Non voglio vederli nel replay Perché io sono il KB giallo? Io non voglio essere il KB giallo Io voglio essere il KB Mi sembra che puoi cambiarlo in colore Aspetta Adesso facciamo questa qua Vai Io scelgo Quella classica E per il colore Ecco Penso gli X Cambia Ok grazie non c'è verde però c'è il solito colore c'è blu, rosso, rosso blu e io bianco si è blu guardalo non so sempre la gelatiera si se premi destra e sinistra velocemente cominci a rateare quella rotazione crea danno ma sta, vieni qua come cazzo dove cazzo come faccio a salire no e sali semplicemente non è che come faccia più su più su più su yey come si usa sto coso cazzo poi qua ci sono delle frecce verdi che sarebbero il turbo devi soltanto premere A o L o R o cose così sul turbo per avere il turbo aggiuntivo yey Kirby Moicano stiamo giocando a tanti giochi di Kirby eccessivo non è vero? eccessivo tipo c'era Kirby Dream Course Kirby e Dildo di Cristallo Kirby questo non è giocato a Dream Course se fai destra e sinistra carichi la barra di vicino vedi e più la carichi e più più creta ah stronzo non vuoi super beh vai di questo io non so no ah no no non puoi battermi di nuovo ti resti stronzo dai non puoi battermi di nuovo ma veramente non so neanche io come caso sto facendo a vincere eh? a caso? eh probabilmente stai giocando a caso te? beccati questo i turbo i turbo gioco beccati turbo dai che ti sta raggiungendo no non puoi non puoi non puoi che non puoi nooo ma cazzo sono negato nelle corse ah tu? dovremmo aggiungerci il computer dovremmo aggiungerci altri giocatori ok andavanti ah prossima gara ah come si fa ad aggiungerci dei ah ecco così ah mettiamoli tutti con questo no no tutti diversi allora scegli una io scegli anche io il gelatine scegli un altro diverso da quello dai ehm no tu intendo no io voglio aggiungerci ah vabbè scusa a farlo il premier D quella questa qua è lì? ah quella si ok è proprio quello che volevo è proprio quello che volevo quella lì non puoi curvare l'unico modo per curvare è frenare con però è velocissima eh lo vedo però tipo l'unico modo per curvare è fermarti con i tasti per caricare il turbo e girare oppure essere in aria vedi? che figata che da lì è carina perchè vai vai velocissimo però tipo non si può non si può fare niente che cazzo aiuto ti ho fatto andare sotto non capisco turbo ah ok ok help now hai bisogno di aiuto si you require assistance ma anche saltando eh? anche saltando aiuto cosa anche saltando ma che cazzo sto succedendo si è diventato che cazzo sta succedendo? si è diventato che mi ruota muomo ruota muomo ruota muomo ruota quindi vai tranquillo io intanto becco tutte le storie muori io sono il grande kaiser z io sono secondo intanto e faccia essere secondo dai sto giocando con chi bene in tutte le scorciatoie ecc adesso che lo ammazzo sto qua con gli occhiali spada tu dove sei? non lo so dietro di me dai no merda secondo sempre secondo dove essere che cazzo che cazzo mi piace tipo se premi tipo il cosa per abbassarti e indietro puoi tipo ah facciamola una bella adesso questa qua è la carina puoi tipo uscire dal tuo dalla dal veicolo davvero? in teoria ci sono molti più veicoli di adesso eh solo che li devo ancora sbloccare tutti ah ok hai tolto tutti siamo di nuovo solo in due? si ok come sei veloce stronzo allora hai capito come si usa? più o meno aiuto aiuto sai che sei in vantaggio lo so ora si capisce un cavolo sei bravo però a usarlo eh si è vero au ma fanculo ero arrivato primo e mi hai superato vai dove cazzo son finito? eh? dove son finito? eh in una di quei cose tranquilla erano tutti uguali tanto ah fanculo non ero abbastanza in alto ah fanculo non ero abbastanza in alto ah il pno! basta! come sei? come sei messo te? boh ah sei lì ok io sto arrivando un po' più lentamente di te che cazzo intanto ti sto lanciando anche roba cercando di vedendogli se riesco a colpirti mi è colpito ah no non è vero si mi è colpito ti ho colpito? si come ho fatto col dirti che sei più avanti di me? non lo so però mi è arrivato qualcosa addosso ah ah beh almeno non mi dai più problemi vediamo di qua ma che cazzo sei? sei troppo veloce Chris? non riesco a raggiungerti! ciao! io non è possibile che sei così veloce vaffanculo ormai sei arrivata alla fine eh infatti ah 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 eccomi mi piace mi piace che cazzo ah buono sono sono negato nelle nelle gare continui a vincere tu ma vabbè non è vero prima hai vinto tu tanto adesso ci sono altre due cose che ti devo far vedere cosa? top ride e city trail sappi che io in city trail sono il migliore e sarà alla resa dei conti ah e invece top ride adesso si vedrà nella prossima puntata il posto del nuovo attenzione attenzione altri video live Husk